La nuova ordinanza sindacale sulla zona traffico limitato di Cerignola, emessa dal sindaco Franco Metta, soddisfa anche parte dell'opposizione, tanto che Vincenzo Specchio, consigliere comunale di Federazione Civica, riconosce il merito al primo cittadino di aver accolto le richieste di cittadini e commercianti. La nuova ordinanza sindacale prevede infatti in modo permanente due zone ZTL, la A che interessa il corso cittadino e la B che interessa la Terra Vecchia. Proprio qui saranno installati quattro varchi elettronici in Piazza Tortore, in Via Buffo, in Piazza Vecchia e in Via Santissima Trinità. Inoltre diventa definitiva anche l'area pedonale centro città che comprende Piazza Matteotti, Piazza Duomo, Piazza della Repubblica e Corso Aldomoro tra Via di Vittorio e Via 20 Settembre. Soddisfatta dunque la minoranza dal provvedimento di Metta a cui è stato riconosciuto buonsenso e disponibilità al dialogo sia con la città ma anche con tutte le altre forze politiche.